Apriamo un mondo, lagga, eh dio madonna. Comunque io oggi voglio costruire una cosa, ovviamente poi ho detto che voglio fare un'arena per far combattere i cosi quando ce l'ho tutti, andiamola a costruirla. Visto che a destra ci è pieno di mostri, andiamo qua. Perché ho appena capito che essendo con mondo bedrock, dove guardo lagga, i posti dove lagga di più non ci devo andare quelli due lagga di meno, sì. Qui ho un piccolo cieco, perché ho appena capito che, allora, se dove guardo lagga c'è qualcosa, quindi in caso ci sono dei mostri vado in quella direzione, invece non c'è niente, ci costruisco. Mi sembra un'ottima idea. Cos'è quella merda bianca di lionvgs, come no? Che cazzo di, di, come si chiamano, behavior pack, delle addon ci sono in questo mondo cazzo. Eh sì. Ma che cazzo di pacchetti di risorso scaricato in questo mondo. C'è, gli chiedo di metti una roba con gli animatronics ccp per una resource, che fanno, mi mettono lion, mi mettono. Vabbè che sto mondo è vecchio. Ma addirittura lion, madonna santa. Perché non c'è l'autogjump? E perché adesso c'è? Non capirò mai sto gioco di merda. Comunque saltiamo. 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 Eh sì. Saltiamo. Eh spaccati stupido blocco di mella. Ecco. Si sarà solo lui qui. Ma che montagna è stupida. E non sono le mie montagne quelle ancora più stupide della 1.21. Questa è la 1.19 ancora. Quindi per far capire quanto è vecchio il mondo. Allora. Eccolo. madonna che buio. Vediamola. È proprio lui. Quindi? Una carota? Non vuole le carote? Vuole il pisello? Non vuole il pisello. Ehm. Non ho ancora capito come farlo parlare. Si può prendere? No. Ehm. Si invece? No non puoi. Ehm. Prendiamoli. No. Non si prende. Mangia la carota. Mangia la carota. No. È un po' più veloce. Dov'è? E apre le porte. Vai. Parliamo. Allora. Cosa ha fatto lei ieri sera? Esfe. Ecco. Cosa ha fatto lei ieri sera? Non risponde? Scortese. Eh. Mi chiude la porta in faccia. Adesso lei. Ecco. Prenda questo. Ritorni nella gabbia. Bestia. Cosa vuoi? Perché sei andato contro il barile? Vuoi che lo apra? Rispondimi. Vuoi che lo apra? No. Vuoi uscire? Non puoi uscire? Adesso ti do una carota. No. Dove vai? Vuoi uscire? Ti apro la porta. Sei andato verso il barile? Vuoi che lo apra? Palesemente. Eh. L'ha guardato. Ehm. Madonna. Santissimo. Ehm. Tutti VGF. Ah. Spina. Perché si chiama MPC? Aspetta che rimedio subito. Ecco. Allora. Ho guardato tutte le uova di qua. C'è Ciccio. Alcuna matata paguri supremi. Mmm. Sì. C'è Gabby. Chiedo un po' che non vedevo una sua skin di Minecraft. Ma ci hanno tutti inventari vuoto. E perché posso prendere l'inventario? Oh. Questo chi era? Zenitsu, eh? Ah no. Pagatmg. Allora. Questo è Rotpiadina. Alex Nautz. Sì. Alex Nautz. E questo è Stregatto. Quindi. Mmm. Chico. Quello che vuole Gravity Falls. Jeric. Questo è Natsu. Quindi. Stefano. Mario ha la skin buggata. E questo chi era? Un gnomo piace. Giorgio Zombie. Stregatto cagato. Infatti c'è la merda dietro. Provo a farvela vedere. E gnè. No. Non mi guardare. Merda. Ecco. Ma non può. Eh. Qui due amanti sessuali. Volevo dire. Proviamo a vedere la merda che ha dietro Stregatto. Gnè. Non si vede. No. Saltiamo. E da qui si è mi guarda. Al final. Io volevo dire. Il comunista. Vabbè. Ugo laggiù invece c'è la versione normale di Giorgio. L'ho messa lì perché c'è una cosa brutta che lui fa. Guardate. Mi avvicino. Mi avvicino. Eh. Sei scemo. Ecco visto. Mi spara. Saltiamo qui sopra. Saltiamolo in testa. Beccati. Eh. Madonna santissima. Eh. Posso usarlo per come. Per costruire una TNT. Quella roba lì. I cannoni TNT. Mmh. Poi sembrerebbe un'ottima idea. Ma comunque adesso. Dobbiamo spostare tutti questi. Le loro uova. Che. Dove sono? Nella cesta. Ok. Le loro uova che sono in questa cesta. Di sotto. Ovviamente sotto ci sono altre tre uova. Che vi mostrerò dopo. Eh. Vaffanculo. Ah ma mancano dei personaggi qui. Tipo la femmina. Che ha lo stesso nome suo. Chiedo ci sono anche degli altri. Tipo quei due nuovi. Quello rosso. E quello dei cosi. Wagi wagi. Questi due li posso dire. Comunque. Spawniamo. L'aggy wagi. Aggy wagi. Wagi wagi. Vabbè. Prima portiamo un po' di vuodi sotto. Sì comunque. Manca la femmina. Giorgia. Mi sa. Quello che si chiama. Tommy. Il coso rosso. E il coso grigio. L'altro. Fè. Fè come si chiama. Non volevo il nome attraverso. Comunque mancano questi tre. Perché palesemente. Nel mod ci sono. Loro però non li trovo. Perché sono stupido. Allora. Wagi. Lo mettiamo qui. Dopo però. No. Lo mettiamo tra i mostri. O tra i animatroni. Che storicamente è un animatrone. Oh. Lì. Un animatrone. Però. Lo mettiamo tra i mostri. Qui non ci sta. Qui sì. Teoricamente. Il signorino con i buffi. È un scp. Perché c'è. Lui scp. Il sus. Non penso di essere un scp. Penso che lo metterò qua. Nell'altro. Negli altri. Dunque. Agiwagi. Sapete che è un. Animatron. Di un'azienda. Che fa giocattoli. I giocattoli diventano cattivi. Uccidono tutti. Invece. Il sus. Tizio con i buffi non esiste. Invece. Tizio con i buffi. Sgp. Esiste. E credo che sia uguale. Identico. Al signore con i buffi. Però non so altro. Ovviamente. Non posso mettervelo a schermo. Perché. Posso farvi vedere questo. Non posso mettervelo a schermo. Per chiari motivi. Mi ha dato un secchio. Vuoto. Non posso farvi vedere. Per chiari motivi. Il signore. I numeri buffi. Un video. Devo vaffanculo. Oh. Ecco. Agiwagi. Me l'aspettavo molto più alto. E' alto. Mezzo. Blocco. Mezzo. Pixel in più. Intanto. Ogni volta. Che vedete. Che si blocca. E' cosa. E' che ci metto un po'. Per farlo respawnare. Vediamo. Cosa fa. Non facciamo commenti su questo. Per favore. Ecco. Non facciamo commenti. E andiamo avanti. Mi sa che adesso faccio un timelapse veloce. Ve l'ho detto. Per mettere qui. Tutti i VGF. Che metterò. Qui ci stanno. Si metto lì. Li metto in ordine. Così sono a posto. Ok. Adesso che ho messo a posto. Le uova a velocità per 6. Nel video. Andiamo qui. Il signore SCP. Con i buffi. Che esiste. Li metto solo il numero. Delle SCP. E non il nome. Perché non posso. Anche se il nome. Mi sa. Che è qualcosa di strano. Comunque. Non mi ricordo. Dove ho messo le uova. Che erano all'entrata. E adesso. Devo smontarli. E rimontarli. Timelapse. Veloce adesso. Adesso state vedendo. Un timelapse. Del video. Velocità per 10. Perché. Madonna. Santissimo. Il vetro. Lunghissimo. Da togliere. L'oro. Lunghissimo. Da ammazzare. Soprattutto. Mario. Buggato. Tutti gli altri. Facili da uccidere. A parte Alex Nautz. E strecato. Che devono scappare. Ovviamente. Anche il Giorgio. Difficile da uccidere. Perché. Esplode. E. Suona qualcosa. E adesso pensiamo agli altri. Ok. In questo momento. Sto spaccando la gabbia. Alla piadina. Per poi passare a Paga. A. Come si chiama. A Gabby. E a Ciccio. Due cazzo vai. Ecco. Adesso passiamo. A Paga. Pum. Paga. Pagate Master Griefer. Fortissimo. Spacchiamo. Spacchiamo. Mastro vetro. Perché è così resistente. Fatto di ossidare. Madonnia. Gabby. 16 bit. Fortissimo giocatore. Che ha sperimentato il problema delle views molto prima del signor Ciccio Gamer qui a fianco. Oh ma oddio ma quelle dietro sono due supercar. Eh sì eh. Guarda. Una non voluta. Forse dovrei smetterla. Che ne dici. Comunque. Mettiamo un fiorellino. E saliamo in questa. Come si chiama. Action Int. Exist. PA. Super. Taltino basso. Car. Ok. Ah. Vediamo questa supercar. Guida. Eh. Una macchina. Uccidiamo la macchina. Tu non sei voluta. Quindi ti togliamo. Comunque che è strano. In agosto. Un calo di spettatori su. I social. Stranissimo. Poi soprattutto in un momento che qui in Italia. E' andata sempre bene a youtuber. Per il coso game. Per il gaming. Essendo stato fino adesso. Il format di punta. Che in America. Non è più di punta da ormai qualche anno. Essendo che in America. E' più avanti. Nei sensi di YouTube. In Italia. Si arriva sempre tardi. E infatti. Adesso sta arrivando anche in Italia. La grande caduta del gaming. Che poi pian piano. Ritornerà. Fra qualche anno. Fra due o tre anni. Ritornerà al gaming in Italia. E' normalissimo. Un calo delle views. In questo momento. In cui. Format. Più. Come quelli dei iNub. E. Come si dice. Di Mr. Beast. Vanno di moda. Infatti. Morri. Se adeguato. E' ovvio. Che sia un calo delle views. Se il gaming. Non è più. Quello di una volta. Per esempio. Nel pre pandemia. E durante la pandemia. Il gaming. Era la punta d'acciaio. Delle views. Adesso no. Perché ovviamente. La gente cambia. E i giovani. Che adesso. Che adesso. Non guardano più i video. Prima li guardavano. Ma adesso no. Perché sono cresciuti. Che cambiano i gusti. E purtroppo. Essendo che. I nuovi giovani. Ovvero. A Genalfa. Hanno dei gusti. Di merda. In fatto di tutto. E' ovvio. Che. I pilastri di YouTube. Poi crolleranno. E quindi. Il video è finito. Vi saluto. Ciao.